Mamma mia che non ho bisogno di sfruttare, mi hai fatto briccare, ti ricordi quando ho detto peschi gamma e ho un bordo pieno, esattamente, tributa, anzi, attivo, norma ragione, tributa, attivo, effetto di pescato, a bella demise ci vuole, attivo, effetto suo quando l'attività, intanto, a lui ci vuole, trovo inutile contro pendulum, guarda, posso tirare l'effetto con pendulum, vabbè però quelli in campo no, 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 sì, Sì, se io controllo un pendulum un po' settolare, ah sì perché sono pendulum, però un effetto solo, eh niente, è un solutivo di contro pendulum via, la attivo o la sette? Cioè, la prendo in mano, la puoi anche settare? La posso anche attivare, però la prendo in mano, penso che ho postato quello stupido, se c'è che non puoi, attivo, effetto, va bene? No, perché a casa non ci sono praticamente passato, noi facciamo una destra, una faccola, ma io non ce l'ho po', è enorme questa faccia, non è a 40? Sempre facciamo una destra, è un'altra vuole, non c'è, non è a 60? Ok ma qua, questo sai qui non c'è, non ho capito, c'è la pail assimile, se c'è la pail assimile, se c'è la pail şekil, si ecco, e chi, hop, è bescata? Vieni, vieni Certo, non lo è Vieni Minchia I plus Bandisci la vaca Te piace No, non è bandisci, se non ce l'hai scarti molto Te piace Certo Senza la faccia Grazie Ciao Se non controlli i mostri evocati per me tributo posso evocare i miei mostri? No, ormai sono gialli Anche se me lo spacca Se poi non evoco nel mio turno, prima della mia end, un mostro per tributo si spacca Però al momento è skill drain Anche se mi distruggi questo Perché il fatto di avere un mostro per tributo è la condizione di attivazione della guerra Dice Puoi attivarla secondo me di un mostro per tributo Rimuovi lui e dice E raggiungo la trappola contro la night Questa che dice Questa che dice E' un effetto di rimosso sul terreno o è attaccato? No, 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 posso, posso Non ce la dimi, frate, spasso Passami il capo Grazie Grazie Mi fa immaginare il marzo che quando non arrivo E' interessante Ce l'ho anche in inglese Però mi annoia prenderla sinceramente E' giusto Che è? Ehm... Azzio ha fatto BlackFinder Si Azzio ha fatto BlackFinder Cosa fa? E' lo spacco di mezzo E' lo spacco di mezzo Ma se invece prendono un call Non viene spaccato di mezzo soltanto Quindi... Ah, di mezzo comunque? Si E' in tedesco E' in tedesco E' in italiano E' in inglese No, allora è in tedesco Ah, si perchè dice di mezzo e poi distrugge la casa Fentia che truffo Ma che è? Ti riesci a fare? Il truffone Faccio erpice Ok E macinate altri due Ciascuna L'uomo sotto Oh, Pk Mh... 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 Attacco Ti ho fatto Poison la stessa cosa Ehm... Uguale Poison A Si E che cosa fa Poison? Fa guadagna 1.200 No, no, però non posso perchè c'è Pedroncola Quindi guadagna 2.200 Guadagna 1.200? Si Quindi va 3.200? Si Mi fai 2.000 Perché lui è dimezzato, è giusto? Si 2.000 2.000 4.800 4.800 5.000 6.500 6.200 6.300 Ok? Guadagnano tutti 1.200? No 2.000 2.000 4.800 3.800 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 4.800 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 5.800 5.800 5.800 Sì, esatto, ed è la 5.300. Ok. Ah, io rendo tua, scusami, attivo questa. Allora è buono, ok. Attivo. Peccato. Diciamo che è un mazzo che fa sinergia col mio mazzo. Prendo danno, grazie. Ok. Cimitarmo la tutta. Non ho ancora una chiusura. Adesso sceglie. Ah, dico, non è X, dove è X è il numero di quadratura di uno. Mi ha fregato qualcosa. No, vabbè, però... Cioè, dico, la cinqueatura è il numero 25. Poi. Norma aggiuntiva. Tributo. Evoco. Effetto. Cosa fanno quando muoiono? Niente. Quindi tu e si disinca un po'. Spaccolo. Spaccolo. Macinate uno ciascuno. Ah, questo è sì. Criatura e non metto stocco. 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 Macinate un altro, questa stanza. Criatura e non metto stocco. No, poco fa dico, quando hai fatto duality. Eh, sì, mi pare che sì. Ho meschiato e poi ti dà per da tutto. Perché secondo me ti hai fatto questo. Vai, vai, guarda. Venge, guarda, infatti lo stai giocando, disani quante carte? Ehm.. Entro in battle. Vai. Aspetta, lui lo fa attivare anche quando l'attacco io? Eh sì, però in questo caso Sponcaster Dark In che senso? No, non ho Sponcaster Dark L'ho attivato, sono Sponcaster Dark Ah, perché sono Warrior Psichico Allora, attacco? Non è vero, non è vero Guarda, non è vero Non è vero Hanno anche loro gli poti negati Solo questo che l'ho evocato a special Ehm... 200, 700. 700. Ehm... Ehm... Fai 700, qua 900, 24 o 35. 35. Ehm... 35... 35. Ehm... Di più. Ho fatto 1.600 adesso. Perché erano 700 più 900. Giusto? No, 900 più questo sono 3.500. 900 più questo sono 3.500. Ma mi devi far vedere la confusione. Allora, ho attaccato con lui. E ti ho fatto 700. Ho attaccato con lui che ha 2.400. E quello quanto aveva? 1.500. Quindi ti ho fatto 900. 700 e 900 è 1.600. E 2.400. 4.000. E di più. Ehm... Attiva. Vai. Ehm... E io invece sono A? Ehm... 5.000. Quelli di prima. 5.000. Ok. Perfetto. Ci siamo. Ehm... 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 Attento a cosa fai. Ehm... Guarda a 50 entro. Attivi. Aspetta. Vai. Ok. E' fatto. Vabbè. Questa non viene spaccato visto che controlli mostro special. Che si deve spaccato? Gruente Landface, se no... No? Questa si spacca se nel Landface non è proprio per tribù. Eh, questa. Ma aveva fatto per... Ah, che no. Pensavo che... Pensavo che... Tributasse... Cioè, si spaccasse se controlli mostro special durante l'animo. No, devi prenderlo. Chie di questo. Ah, è buono. Mando di scevoli me lo prende in maschio. In mano lo sai. Ma ne va. Ma ne va. Ti sei sicuro di Enzo? Grazie. No, in realtà no, perché ci sono i border rispetto a Chiamatti e ciò la sai. E' un po' di mezzo. Ok. Reborn. Reborn? Si. Reborn Blackpain. Quando viene distrutto. E' quello al cimicore come ce l'ha finito. Sto colpando in grado. Voto Polish. Sto distrutto. E' quello al cimicore. Ok. Gli effetti continui partono. Entrano gialli. Perfetto. Oh. Pepe che vuole? Oh. This is a mezzo. E' quello che c'è? E' quello che fa? E' quello che fa? E' quello che ha fatto è. E' quello che vuole ha fatto? E' quello che vuole ha fatto è? Ok? Quando ti ricordi quando avevo quello special? Si A posti io quello special lo metto a scavo lo spocco e lo avevo camgazzer Ok? Noi facciamo la destra non ha puntato E però questo qua non lo puoi fare? No, non lo puoi fare S secoso Vabbè devi togliere lui però Sì, si tolgo Ah ok Sì, si tolgo S secoso Fai così, ok Grazie Sì, sì Sì, sì Mi metto in campo il cavo Fasca Ok 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 Bascode A 3.700 e lui a 1.200 No, è una 3.700 200 300 Grazie mille! Quindi ha 4 mila 4 mila 2 mila e 2 2 mila e 2 2 mila e 2 No, però aspetta Ah si, perchè sono bombati di lui Sì, sì Lo dovevo circolare un po'? Si, ho preso assai danni e mi sono uscita la drappola La drappola vuole all'alto? Quale? Secondo te Ah la risocchiabilità Risocchiabilità Si, detto anche skill training Si chiama eruzione Si, eruzione Dette anche skill training Skill training? In italiano risocchiabilità Penso che il terreno non lo conosca nessuno Intanto Si, ma così Niente side Diego La prima no Ho la build per andare prima Mi ci fanno secondo Posso Se no potrei fare, sai? Voglio farlo andare prima E lui sta facendo la cosa per secondo Eeeh Giacchissi Il buon lavoro Eático E' vento E' vento E' vento E' vento Questa è la tua site, 9 carte di site, c'è un mazzo che stai cambiando, vabbè si che giochi a 60, le devi vedere, e questa è l'altro site, 6 carte rimane, 5, 5, 5, compito, ero in chi, sembra che ci dice, si colpa che con i monti non c'è nel bacio, non è in più, ma invece no, ero semplicemente scaduto, con la destra, non è in più di un mese, ma cosa? Questa è il signor, ho capito che il Deniz è stato decluffato, io faccio un turno di 20 minuti a 3 se il pareggio vinco comunque sempre io sì lo so è un pareggio in realtà c'è stato un pareggio Geron di comparadont del drago hanno pareggiato no ma stanno entrambi stanno tipo 2-1-1 no perché Geron di ha perso anche di me quindi lui di prima non c'è più perché al massimo potrebbe fare come te 3-1-1 mi ha distrutto il mazzo maestro come me vediamoci ora è meglio prima ho startato un po' ma sai ma che dici ho perso no non sto spazio è la parola ecco si vuole però sto grande meno anzi aspetta all'attivazione di foolish a te non fa attivare il posto del cimitero pago mille pago mille perché si dà possiamo non prendere l'epidio questa partita perché fai un contropante non parte fa quello e tutte le cose dei pendulum ma quelle partono no quelle partono perché prima di me sono così spazio comunque non l'ho sfidato ti ricordo che non ho fatto il sacco ah vero vabbè non ci credo che non potete avere qualcosa di salto no non c'è niente di salto guardati a pago eh vabbè c'è ne scolata guardatiamo vabbè 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 mì ma tu c'è poco leggerlo eh ah guardate che schifo no upright anche perché non C'è uno, due, tre, quattro, tre, cinque. E se evochi un link, parte l'effetto... Se evochi un link puoi attivare un effetto. Per forza il link in generale è un effetto solo? Un effetto solo. Qualunque effetto, uno solo. Nel suo cuore no, silenzio. Perché? Perché ci stanno che avvengono dietro. E non ce la faccio fare il nostro. Perché non ce la faccio lì? Non ce la faccio lì. E non lo piangi. Degli, togli quelle carte fituse da lì. Sono lì ormai da sempre. Glielo dici da un'ora. Guarda, guarda che faccio domani si è venuta per te. Ma poi sono fituse. Non è bello? Sì. Guarda che schifo che c'è. Guarda che schifo che c'è. Guarda che schifo che c'è. Guarda che trappola il 90% possesse una strike. Forse sì. Forse no. Forse la fine. Forse la fine. E' una citazione non fit. Forse no. Forse no. Forse no. Forse no. Forse no. Oh, che fai? Hai visto? Stai morendo, occhio. Passi. Silenzio. Fai? Fai un po'. Fai un po'. Giusto. Fai un po'. Fai un po'. Passo. Passo. Fai un po'. Fai un po' lo stesso. Stai morendo. Fai un po' lo stesso. Fai un po' lo stesso. Per il tempo. Fai un po' lo stesso. Ci sono un po' lo stesso. Poi c'è il testo. Ci sono un po' bello. Ok vabbè, non è che posso affassare Quello di mangiare E non lo puoi fare Non posso attivare Puoi attivare un effetto Per tipo l'eggia di mostro che controlla Questo è un effetto, no È un mostro, no È una magia Ma è effetto mostro pendolo No È l'altro effetto è effetto mostro pendolo Ovvero vuol dire bornare Questa è una magia per ora Sì, guarda Vabbè, è qua No, cazzo Vabbè, qua è l'effetto Guarda, legge attacco È questo qua, no? Sì, sì, c'è scritto attacco Dico, è questo qua, non è questo Perché se era questo non lo potevo attivare Lo so, lo so Va bene, a posto Anche se non lo so te lo puoi fare Però basta Sì, sì, sfida Diciamo di sì Esatto Sì, sì, sfida I nostri perdono 500 Sì, mi riconosce Quindi è un 500 Quindi è un 500 Attacco, atti effetto poison Guadagni 1.2 Quindi da 1.9 passa a 3.100 No, passa a 3.100 Ma stai attaccando? Sì, sì, sì Ok, dimmelo Perché alla fine mi infessa ti lo posso Sì No, perché stai spattando? No, no, a parte il cimitero E non puoi, hai già attivato harmonizing Ah, sì Hai attivato harmonizing E non ce l'hai più sul terreno Se avevi un altro link Ah, perché c'è sul terreno Ok, ok, ok Però tu nemmeno puoi attivare l'effetto? No Ah, beh, allora attacco lui Ah, no, andrì da qua Sì Però posso attivare poison? Palle Perché lui è Non lo hai già attivato No, 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 perché lui è vento Ma lo hai già attivato? No, poi non lo posso attivare Ah, vero Posso soltanto quando combattere, capito? Sì, sì E' vento, però Tipo l'unico stronzo Non ne ho mai visto mai E' 7,8 Vabbè, come me l'ha staccato lo stesso Quindi, vabbè, attacco lui Lui è 500 Sì Quanto ti faccio? 1.5 Quello è permanente che spompa Ah, no, bravo, bravo Allora, a 1.100 1.100, ecco la tua Eh, 7.000 Quanti sono 2.100 Ok, posso? Il video è di cazzo E' tale, onde qua Non lo potevo fare o scurita? No, no Tributo Evo No, c'è Evo Andri, posso spaccare? Se vuoi li fai la mozza No, no, vabbè Sì, se lo faccio No, no, vabbè No, vabbè No, vabbè Eh, non lo sto giocando No, vabbè Attaccio Ti faccio 300 Attacco 2.4 2.7 Vai Vabbè Vabbè Sì, non ho so Plus нужa Ti va ag unite Pandora E posso propagandolo Sì ehm Vabbè Mandora Landora Già Si Perchè non c'è più il coso Non c'è il coso Non c'è il coso Per tutto questo Allora, io attaccherei Ciccio 3 E' effetto suo 10 Se sono due posso non piegare da due Non dice il suo nome ma dice per questa carta Farei un meraviglioso atto blasfemo Facendogli perdere almeno di voi un punto vita Tu quanto hai? Due mila e cento Mi danno Anche Questo è un po' lo dovremmo fare... Alza! Ti ha fatto l'Ectrum? Si Spacco... Spacco... Lo giuro... L'Ectrum... Si Chi è dipensato? No Spacco lì Ma perchè parte quello da di spaccare se c'è questa? Certo Si Perchè parte nell'Extra E' chiusa Con chi mi ha tappo? Ah... 600 Mie sono più... un po' di 600 Lui nega è tutto il mostro Ehm... Attacco con lui Ok E sono 2009 Oggi Sono... 2000 Lui quanto ha di attacco? 2009 2009 Quindi mi fai 2003 Eh... 4000 4000 5000 6000 Quindi ho due partenze scrausissime ha fatto Però è scarsa Bella LontAnd Cosa Alliamo Cosa Cosa Accupa Grazie a tutti.